Vittorio Sgarbi, grazie di averci incantato con la spiegazione del suo libro su Raffaello. Ma due battute sul caso Diokovic? Te l'ho capito quando senta di Raffaello? No, dopo che ci ha incantato con il libro... È il caso folle, per cui non può essere sano o addirittura avendo già avuto il Covid e deve per forza vaccinarsi per andare in un paese di pazzi che sono vaccinati per ordine e non per scelta. Allora, per fare una gara di tennis... Sto facendo un'intervista! Per fare una gara di tennis la distanza c'è e non c'è rischio per nessuno. Quindi hanno cercato di impedire, in nome di una falsa sanità, la libertà di giocare, di fare sport. Una forma di idiozia e di prepotenza politica. Pragheranno! Grazie!